Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di alcuni strumenti di pre-frame. Questo è il secondo video e fa parte un po' della tematica di approfondimento sul pre-frame. Vi invito a guardare il video precedente che vi linkerò qui nei commenti ma anche in una delle schede che uscirà direttamente sul video. Email. Anche qui molti dicono email è morta ma io vedo che i più grandi marketer e imprenditori digitali ma anche le più grandi aziende del mondo continuano ad investire quantità ingente di denaro per finanziare le loro strategie di email marketing. Quindi email rimane comunque uno strumento potentissimo di comunicazione. Nel nostro caso particolare però email in quanto pre-frame è importante da due punti di vista. Il primo punto di vista è che ci permette di raccontare delle storie. Grazie alle mail non autoreferenziali riusciamo ad riportare alcuni casi studio, alcune testimonianze, riusciamo a mandare dei link diretti ad alcune situazioni che ci interessano particolarmente. Grazie alla mail riusciamo a fare tutto questo e quindi riusciamo a mettere il pubblico nella situazione di mente positiva nei nostri confronti, nei confronti dell'argomento di cui stiamo parlando e dei servizi o prodotti che stiamo offrendo, se li stiamo offrendo in un certo momento. Il secondo vantaggio invece per quanto riguarda sempre il mondo delle mail è quello di rimanere sempre un po' più discreto rispetto ai bot. Adesso sta nascendo questo fenomeno dei bot che utilizzano moltissimi digital marketer, è sicuramente super efficace, però deve essere utilizzato con molta parsimonia, quindi personalmente un bot che mi contatta tutti i giorni diventa veramente fastidioso. Io mi sento invaso nei miei spazi, nella mia libertà di poter non leggere in un certo momento certi contenuti. La mail, devo dire, da questo punto di vista permette una pubblicazione un po' più frequente e ci dà la possibilità di aprire una piattaforma separata e quindi di leggere un contenuto quando lo preferiamo. Quindi il mail marketing ancora rimane molto efficace, soprattutto se non è autoreferenziale, ripeto, perché soprattutto per quanto riguarda il fenomeno di pre-frame, quindi di predisposizione, di preparazione, di informazione, di nutrimento, dare degli esempi di social proof, raccontare delle storie, quindi metterci anche in uno stato informale di fronte al nostro pubblico, sicuramente ha un'efficacia grandissima. Al numero 5 abbiamo uno degli strumenti che preferisco, si tratta di podcast. Io personalmente ne ho due, uno si chiama Che vita da marketer, disponibile anche questo su Spreaker, iTunes, eccetera, e dove approfondisco alcuni contenuti della vita di un marketer, quindi ha un tono molto più informale, quindi storie, racconti di cose successe durante la settimana, sempre in ambito di vita da marketer o di racconti di eventi a cui partecipo ed alcune riflessioni mie personali, quindi sono una sorta di diario mio personale, quindi un diario di viaggio. Il secondo podcast invece è Discovery Funnel, che è il podcast che si aggancia direttamente a questo canale in cui vengono riportati i video sotto forma di contenuto audio e nello stesso podcast ci sono alcuni episodi invece che sono soltanto podcast perché sono mirati magari un po' più lunghi e l'obiettivo è di approfondire magari anche qualche intervista e quindi diventare un podcaster a tutti gli effetti perché se sei un podcaster senza interviste mi dispiace ma non c'è niente da fare, devi smettere. Ora scherzi a parte, il podcast e quindi la forma audio sta diventando importantissima. Devo dire che io personalmente ho conosciuto il podcast due anni fa circa e nell'ultimo anno, soprattutto negli ultimi 4-5 mesi il fenomeno della creazione e della nascita di nuovi podcast sta esplodendo e devo dire che anche molte più persone stanno approcciando a questo canale di comunicazione. mentre prima dicevo anche ai miei amici vatti ad ascoltare il mio podcast e loro mi guardavano con la faccia perplessa della serie podcast e devo dire che adesso c'è molta più consapevolezza e la gente molto più preparata sa di cosa si tratta e anche per quanto riguarda il pubblico generalista, quindi il pubblico che non è molto categorizzato quindi non stiamo parlando soltanto di imprenditori digitali, non stiamo parlando soltanto di nicchie molto specifiche anche quindi un pubblico di massa si sta affacciando a questo canale di comunicazione anche perché nascono sempre più podcast che parlano a questa tipologia di persone quindi non soltanto podcast tecnici specifici ma anche podcast di intrattenimento molto generici al numero 6 posizioniamo la pagina di prevendita in realtà è uno strumento abbastanza tecnico è uno strumento che precede la pagina di vendita finale quindi molti imprenditori digitali, digital marketer separano i due momenti il momento di finalizzazione della vendita e il momento precedente quindi il momento informativo certo c'è stato tutto un passaggio informativo di nutrimento prima della pagina di prevendita se abbiamo costruito un pre-funnel efficace ma alcuni scelgono semplicemente di fare un funnel cortissimo e quindi di prendere e costruire una landing page successivamente far atterrare l'utente a una pagina di prevendita che viene utilizzata come fonte di informazione e quindi fonte di value proposition dove si elencano quindi tutta una serie di benefici magari qualche caso studio, qualche testimonianza e quindi per non sporcare la pagina di vendita finale si utilizza diciamo uno step intermedio che funge come spazio di preparazione di predisposizione dell'utente in cui l'utente ha tutte le informazioni per poter decidere di effettuare l'acquisto o poter decidere di rifiutarlo o poter decidere di tornarci magari in un secondo momento dopodiché quindi questa pagina di prevendita viene strutturata in modo tale da essere seguita poi da una pagina di vendita finale in cui poi viene effettuato l'acquisto vero e proprio però a questo punto la pagina di vendita finale è uno step molto semplice molto lineare sia graficamente sia per quanto riguarda i contenuti perché non deve avere troppe distrazioni non deve avere troppe call to action di approfondimento quindi l'unico focus deve essere quello di riuscire a portare l'utente all'acquisto per non distrarlo e quindi a questo punto si chiude il nostro funnel e poi segue diciamo una fase di post funnel dove c'è tutta una parte legata al servizio clienti al referral marketing altre operazioni diciamo di post funnel ora indipendentemente da quale strumento viene utilizzato come preframe è importante ricordarsi l'utilità del preframe quindi preframe come tutta una serie di processi preparatori che servono a chi vende prodotti e servizi o chi cerca di far compiere una determinata azione che non deve essere per forza la vendita può essere semplicemente l'iscrizione e partecipazione alla nostra community ecco preframe consiste in tutta una serie di strumenti in tutta una serie di processi che vengono utilizzati e vengono messi in piedi per preparare l'utente all'azione indipendentemente quindi dallo strumento che si utilizza in realtà importante è collegare i vari momenti importante quindi collegare un momento di preframe a un momento successivo in cui poi l'azione effettivamente si compie quindi tecnicamente vengono utilizzate delle call to action che servono proprio come legame tra due diversi momenti e importante in realtà è ricordarsi che anche in questo caso come dicevo nel video precedente stiamo parlando di un servizio che noi compiamo nei confronti del nostro pubblico perché li informiamo li rendiamo consapevoli e anche eticamente parlando per chi utilizza questi strumenti in modo etico certamente metti il tuo pubblico in condizioni di poter scegliere in maniera molto più consapevole rispetto alla situazione in cui magari non hanno un preframe adeguato bene amici spero che questo video vi sia stato utile vi ricordo ancora se volete seguire questa tipologia di contenuti e di iscrivervi al canale Overcome Marketing inoltre vi invito a iscrivervi alla nostra nuova community degli Overcommerce destinata a studenti, professionisti, imprenditori che vogliono condividere strumenti tattiche di digital marketing quindi di un marketing attivo, misurabile, di funnel marketing e per chi vuole condividere le proprie esperienze di mettere a disposizione degli altri le proprie capacità di fare rete e fare networking ecco questo è lo spazio dedicato a voi vi ricordo inoltre che se volete accedere a questa tipologia di contenuti sotto forma audio sono attivi due podcast uno è Discovery Funnel e l'altro invece è Che vita da marketer e quindi potete trovarmi lì e ci sentiamo presto con nuovi contenuti ciao